La fiera è importante, ormai è diventata una consuetudine, siamo qui dall'autopromotech dal 1994 e non manchiamo nessuna edizione, per noi il mercato italiano è il riferimento, siamo nati in Italia, è ancora il nostro core business con il 45% di quadri di mercato, di fatturato e l'altro 55% estero, quindi qui essendo una fiera internazionale riusciamo a combaciare le due esigenze. Tantissime, tante novità, uno stand effervescente, nuovo, tutto disegnato nuovo proprio per accogliere queste nuove novità e se mi segui te le dimostro. Qui entriamo, questa è una divisione, questa si chiama la divisione Laboratorio Italiano, è una linea di prodotti specifica per il detailer, il detailer o il detailing è la nuova disciplina della cura dell'auto, lo chiamo disciplina perché è qualcosa di più di un lavaggio e qualcosa di più di una carrozzeria, è un fusion che si uniscono per dare l'eccellenza di risultato alla vettura, riportandolo allo splendore originale attraverso delle nuove tecnologie e delle nuove tecniche. Abbiamo per esempio questo prodotto che si chiama Forever Young, un nome non nato a caso, per sempre giovane, dove è una miscela di silicio e di ossido di tagno, viene applicato sulla macchina una volta lucidata e ti dà una garanzia per due anni contro la protezione degli UV, una resistenza maggiore ai graffi, una resistenza anche agli agenti atmosferici e ai prodotti alcalini. E poi ti dà una brillantezza, una sottosità dell'auto profonda e quando la vedi sotto il sole è un piacere vederla. E poi è tutta una linea dedicata, per esempio a ogni piccolo particolare, il problema del calcare sulle autovetture, qui a Milano quando c'è questa pioggia, che non è certo più la pioggia della montagna, è piena e ricca di contaminazioni, di smog, si diposano sulla corazzeria e diventa tutto più difficile da pulire. Quindi siamo andati a trovare ogni singolo problema e ogni singolo problema abbiamo trovato una soluzione facile da utilizzare in tutta sicurezza. Questa è la grande capacità dei nostri laboratori, abbiamo un laboratorio interno con ben tre chimici, collaboriamo con diverse università e siamo ormai, essendo una visione mondiale della nostra visione, abbiamo anche sia fornitori internazionali e quindi ci dà una grande conoscenza, un grande patrimonio unito al nostro know-how. Quindi ecco per questo siamo un po' anche l'eccellenza italiana nel mondo, sono pochissime aziende nel mondo che producono questi prodotti e noi siamo l'unica italiana, quindi questo è il motivo di orgoglio. Poi c'è un'altra novità ed è quella di utenti tutti normali, quando vanno nell'autolavaggio, seguitemi. Questa linea si chiama Unica Line perché unisce valori principali che sono l'ecologia, le performance di pulizia e le performance di lucentezza. Lucentezza è protezione, l'utente può finalmente andare nel lavaggio automatico e trovare qualcosa che prima trovavo solo nel lavaggio manuale. Grazie a queste nuove tecnologie che ti ho fatto vedere prima, che hanno contaminato tutta la nostra produzione e come ti ho fatto vedere qui, ti posso far vedere cosa accade alla tua vettura quando piove e come rispinge lo sporco e come rimane più pulita. Rimane molto più pulita l'auto protetta con i nostri prodotti. Quindi il cliente lavaggista pensava all'inizio che fosse uno svantaggio che le auto si sporcassero con meno frequenza, ma hanno capito che un prodotto e un servizio innovativo fa la differenza. E' per questo che abbiamo voluto unire in una app tutti gli eccellenzi, gli lavaggisti, gli autolavaggi che vogliono eccellenza perché in un mercato, ahimè, molto spesso controllato dal prezzo, ci sono un gruppo di lavaggisti, quasi mille in Italia, che hanno deciso di sposare alla massima qualità e noi li abbiamo riuniti in una fantastica app che ogni utente può trovare e scaricare a sé e vedere qual è il lavaggio più vicino a lui in un raggio anche di 10 km. Quindi questa è una delle novità più importanti. Cerchiamo di unire la domanda e l'offerta perché continuiamo a ricevere dal nostro sito internet numerose richieste dove poter lavare l'auto in modo sicuro ed efficace e noi abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti questa fantastica app. Abbiamo aperto un nuovo mondo, abbiamo aperto nuovi canali e esplorato nuovi settori, ma finora toccati dai nostri competitor. Quindi la lungimiranza e capire anche le esigenze del cliente normale. Uno tra tutti è il possessore del proprio piccolo animale, il nostro piccolo compagno di vita, un cane, un gatto che vengono sempre con noi in macchina e abbiamo creato una linea dedicata a questo settore. Quindi qui abbiamo i nuovi prodotti della linea PET presentati al salone anche internazionale Interzoo dove risolviamo i classici problemi dei nostri piccoli amici sia in casa sia in auto. Questa è l'ultima novità di Mafra, la linea PET Line che si sta regalando grandi soddisfazioni. Noi stiamo crescendo a due cifre da tre anni, tre, quattro anni proprio quando abbiamo deciso di puntare all'eccellenza e ci sta premiando sia all'estero che in Italia. Quindi io se continuo così ci possiamo ritenere un'azienda fortunata e anche capace o capace o anche fortunata dipende un po' dai punti di vista. e quindi non posso dirmi che è altro che soddisfatto. E anche qua la maggiore soddisfazione è vedere il risultato attraverso gli occhi dei clienti che passano e ci fanno i complimenti. Quindi sono soddisfatto.